La parte difficile sono solo i pop-op finali, quelli tutti attaccati, quelli che fanno pop-pop-pop-pop-pop. Però in parlato questo, va sicuro che tutto il resto è una passeggiata. Allora io proverei, più forte viene meglio. Allora, bene, adesso funziona così. Io parto con le battute. Quelle facili potete ridere, quelle più difficili ve le fate spiegare. Io vi consiglio che chi l'ha capita la spiega ad alta voce in modo tale che ne possano beneficiare tutti quelli intorno. Non diffidate da quelli che ridono così. Che fanno finta di averla capita. In realtà stanno a fare, ma che cazzo è vero? E quando tu gliela chiedi, c'è che ha detto? E dice, niente, niente, ragazzo. Manco, manco conviene spiegarla. Capito? Non diffidate tantissimo da quelli, sono i peggiori. Vai, proviamo. Bene, quando ero piccolo mi era per...